Buonasera a tutti, io sono Annina Gravino, una cittadina del comune di Rivalta e non il pubblico di Rivalta. Voglio precisare perché per me le persone che sono qua non sono il pubblico, sono i cittadini e partecipano attivamente e hanno chiesto questo incontro perché hanno qualcosa da dire, hanno qualcosa da chiedere e chiedono un confronto per il bene di tutti, per un bene collettivo che non è solo il bene della maggioranza o della minoranza e neanche il bene solo del comune di Rivalta, ma è il bene dell'intera nazione. Parliamo di soldi pubblici, parliamo di opere grandi che coinvolgono inevitabilmente tutti. Detto questo mi limito invece alla spesa che riguarderà il comune di Rivalta. Si parla della costruzione di una duna composta di detriti. Negli ultimi vent'anni abbiamo visto modificare notevolmente gli eventi atmosferici e ci siamo sentiti dire in tantissime occasioni in Italia, non per Rivalta, che non si poteva prevedere. Io chiedo la costruzione di questa duna che non ha cemento, se alla prima alluvione potrebbe essere oggetto di questo non potevamo prevedere, perché secondo me invece è possibile. E in secondo luogo, i costi di gestione e di manutenzione di questi passaggi, di queste cose che non si possono prevedere, che inevitabilmente incidono sui bilanci dei nostri comuni, in modo anche importante. Dove finiranno? Sull'aumento delle addizionali che il nostro comune, già rispetto ad altri comuni, ha più alte? Cioè cosa succederà? Avremo meno ore di insegnamento, di insegnanti di sostegno, perché non possiamo pagarli perché è il comune? No, chiedo, è così. Però è giusto che i cittadini sappiano. Io sono una persona ignorante, lo ammetto, e chiedo. Cioè chiedo, perché io l'ho sentito dire questo, è vero. Comunque, questa credo sia una domanda a cui rispondere. Io sono scopigli,